partiti in vantaggio never say never nei confronti di Matrioska quindi Tussara per linee interne a largo Sulson quindi Knight of Light per linee interne con Mewat e Bolbari in coda Cavalli ora poco prima dell'imbocco della curva di fondo con in vantaggio never say never nei confronti di Matrioska a largo avanza anche Excellent Bayon in terza posizione davanti a Knight of Light che rimane in quarta all'interno con vicino Sulson quindi Tussara, Mewat e Bolbari gruppetto comunque ben riunito poco prima dell'imbocco in retta di arrivo dove never say never rimane in vantaggio all'interno avendo a largo Matrioska e Excellent Bayon per linee interne in Knight of Light seguito da Bolbari ancora Tussara all'attesa all'esterno Sulson seguito anche da Mewat a lunga centropista Excellent Bayon che passa in leggero vantaggio nei confronti di Never say never e Sulson che ora sposta a centropista con a largo di tutti Mewat siamo a 200 dal palo Sunson attacca a fondo Excellent Bayon e all'esterno progredisce anche Mewat siamo nel tratto finale con Sunson che a centropista mantiene la meglio Sunson mentre per il secondo posto sono vicinissimi Mewat e Excellent Bayon andiamo a rivedere le immagini con George Perovic e Sunson numero 4 dello schieramento che a centropista è passato in vantaggio per poi difendersi con tenacia fin sul palo dal tentativo di Mewat che all'esterno è venuto a cogliere il posto d'onore su Excellent Bayon quindi 4-3-5 il probabile ed ufficioso arrivo della quinta di Napoli